I colori sono quelli di Agrigento, bianco-azzurri. Anche le ambizioni legavano le città di Matera e di Agrigento. La prima è riuscita a conquistarsi con maggiore merito il titolo di capitale della cultura. Ad Agrigento è rimasta invece la sola ambizione e la delusione. Ma questa è un'altra storia. La storia che vogliamo raccontarvi riguarda lo sport, perché è nello sport, o meglio nel calcio, che le due città, Matera e Agrigento, si ritrovano avendo perso entrambe tutto. Allegare Agrigento e Matera oggi è la fine di un'avventura nel calcio che conta, la fine di un sogno. Per fortuna anche sotto questo aspetto qualcosa di importante divide le due città. Da un lato i bianco-azzurri di Agrigento hanno ripreso a camminare per riportarsi tra i professionisti. Dall'altro lato c'è una società radiata, cancellata dalla sede C. Noi ricordiamo quando il Matera venne a giocare all'esseneto con il suo mister Autieri Borioso in sala stampa. Ecco, quello che si è rischiato ad Agrigento, dove grazie al cielo la figuraccia più grande è stata evitata, praticamente è avvenuto a Matera. La differenza in questo momento tra noi e loro è che qui, nella città dei Templi, si sta cercando di far tornare l'Akragas nel posto che conta, nel posto che gli compete. Staremo a vedere se lo faranno anche a Matera. È triste comunque che nell'anno in cui si riesce a conquistare un titolo importantissimo come quello di Capitale della Cultura, si perda per strada un altro prestigioso titolo che conta anch'esso per fare immagine.